Per un piccolo produttore agricolo è conveniente e opportuno associarsi a una cooperativa o cose del genere? È una domanda che ho ricevuto diverse volte. In questo video ti riassumo la risposta. Premesso che quando sento il termine cooperativa provo quasi sempre un forte senso di nausea e repulsione, perché non ho mai tollerato il modo con cui questa forma di associazionismo viene creata e sfruttata nella maggior parte dei casi. Come sanno tutti, le cooperative nascono principalmente per fare soldi a scapito dei contribuenti o delle persone più deboli, grazie alle varie forme di sovvenzioni e alle infinite agevolazioni di cui possono beneficiare. Poi ci sono altri aspetti negativi che non sopporto, come quello di anacquare responsabilità e meriti, oppure c'è la tendenza a far sempre credere che le cooperative sono orientate al sociale, al no profit e sono sempre basate su volontariato e cose simili, anche quando i dirigenti hanno retribuzioni milionarie. Quindi, le cooperative non mi sono mai piaciute, però esistono altre forme di associazionismo tra imprese, molto meno pelose, estremamente utili per i piccoli produttori agricoli, anzi, spesso determinanti per il successo dell'impresa. Sono tutte cose che dico da sempre, tanto è vero che il progetto della mia azienda agricola, che avevo creato in montagna, prevedeva proprio la creazione di un consorzio per portare grossi vantaggi a tutti i piccoli produttori della zona. Quindi, se sei tra quelli che mi hanno chiesto informazioni sull'opportunità o convenienza di aderire a una cooperativa agricola, posso solo risponderti che io ne starei molto alla larga, però cercherei altre forme di collaborazione con altri produttori. Ce ne sono tante, ad esempio un consorzio di imprese, forme che garantiscono l'assoluta indipendenza e l'assoluto potere decisionale di ogni aderente, ma nello stesso tempo portano benefici a ogni soggetto. Ad esempio, nella mia azienda agricola, dove producevo principalmente frutti di bosco, avevo creato una struttura per lavorare, trasformare, confezionare anche conto terzi. Questo perché non ha senso per un piccolo produttore dotarsi di tutte le migliori attrezzature. Costa uno sproposito comprare attrezzature anche piccole ma all'avanguardia ed è impossibile ammortizzarne i costi. Molto meglio che ci sia un solo soggetto a livello locale in grado di offrire questo servizio a tutti i produttori. Stesso discorso per altre attività, come la vendita, soprattutto quella online, il marketing, la comunicazione, tutte attività che nessuna piccola impresa può sostenere economicamente in modo autonomo. Meglio associarsi, ottimizzare e ottenere economie di scala. Lo fanno anche le grosse imprese che si affidano a contoterzisti per varie attività, compresa la raccolta e il trasporto. Quindi a maggior ragione lo dovrebbero fare anche le piccole aziende agricole. Però un conto è autorizzare il contoterzismo scegliendo autonomamente a chi rivolgersi, tenendo conto anche delle tariffe praticate. Un altro è aderire a una delle varie cooperative che impongono sempre parecchi vincoli. Insomma, con la mia impresa voglio fare quello che voglio e rivolgermi a chi voglio, ovviamente sfruttando il più possibile le economie di scala. E con questo credo di aver risposto a chi mi ha chiesto chiarimenti. Se hai domande scrivile nei commenti, così potrò risponderti in modo dettagliato. Non dimenticare un like e la condivisione di questo video. Se non conosci il canale YouTube Rurale Digitale, tocca questo log per visitarlo. Iscriviti e attiva le notifiche, così saprai quando uscirà la prossima puntata e potrai anche partecipare alle dirette. Il prossimo video che ti consiglio è questo. Per contattarmi vai sul sito ruraledigitale.it